Oh, ma è tremenda! Terribile! Che cosa faremo? Chip Weasler ha comprato il Big Coffee e l'ha chiuso! E di conseguenza io e Gloria siamo senza lavoro! Il potere gli ha dato completamente alla testa! Sicuramente sta complottando qualcosa di ancora peggio. Che cosa faremo, Nancy? Oh, io ero venuta a chiedervi che ne pensavate del mio nuovo cappello. Ma immagino che ora non sia il momento giusto. Chip! Buongiorno, Green. Passavo di qui per darvi la buona notizia. Un nuovo cibo super sano aprirà nella vostra zona. Lo sappiamo, sarà proprio qui accanto. In realtà, sarà da entrambi i lati della vostra casa. Da entrambi i lati? Quindi significa... Aspettate fermi! Non state davvero andando via, no? Mi dispiace, Chip ha comprato tutto il nostro condominio. Il mondo è, come si dice, ingiusto e crudele. Bene, è ora di mettersi in viaggio. Oh, ma dai, aspettate! Ascolta, Chip, se posso mandare un pollo nello spazio, posso fermare anche te e il tuo piano. Hai detto qualcosa, sai, indosso i tappi per le orecchie. Tappi per le orecchie? Perché mai li indossi? Per questo! Il palazzo residenziale e il Big Coffee! Se non scamparsi! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Bingo! Bango!